Leo. Un problema risolto. La botola sopra di loro si chiuse automaticamente, tagliando fuori gli inseguitori. Tagliò fuori anche tutta la luce, ma quello era un problema minore. Leo sperava solo che non dovesse riuscire nello stesso modo in cui erano entrati. Non era sicuro di riuscire ad aprire la mattonella da sotto. Sopra le loro teste, il pavimento di marmo tremò, come se i trichechi lo stessero prendendo a calci. «E ora?», domandò Frank, tornato in forma umana. Leo lo sentì ansimare nel buio. «Tranquillo, niente panico», lo rassicurò. «Evocherò un po' di fuoco, per vederci qualcosa. Grazie per avermi avvertito». L'indice di Leo scintillò come una candelina su una torta di compleanno. Davanti a loro si stendeva una galleria in pietra con un soffitto basso. Proprio come aveva anticipato Hazel, il tunnel scendeva, poi si livellava e andava verso sud. «Bene, va solo in una direzione», disse Leo. «Troviamo Hazel», propose Frank. «Certo». Si fecero strada lungo il corridoio, Leo in testa con il fuoco. Era contento di avere Frank dietro di sé, perché era grande, grosso e capace di trasformarsi in un animale spaventoso, nel caso che quei turisti spiritati riuscissero in qualche modo a sfondare la botola, infilarsi dentro e seguirli. Si domandò se gli Eidolon potessero semplicemente abbandonare quei corpi e penetrare sottoterra, e magari prendere possesso di uno dei loro corpi. «Oh, ecco il mio pensiero positivo della giornata», si rimproverò. Dopo una trentina di metri, girarono un angolo e trovarono Hazel. Alla luce della spada d'oro, stava esaminando una porta. Era talmente concentrata che non li notò finché Leo non disse «ciao». Lei si voltò di scatto brandendo la spada. Per fortuna della faccia di Leo, la lama era troppo lunga per roteare nel corridoio. «Cosa ci fate qui?» domandò Hazel. «Scusa, ci siamo imbattuti in alcuni turisti arrabbiati». Leo la mise al corrente dei fatti. Hazel si bilò per la frustrazione. «Detesto gli Eidolon. Credevo che Piper li avesse costretti a giurare di starci alla larga». «No». Frank sembrò imprecare silenziosamente. Piper li ha costretti a giurare di stare alla larga dalla nave e di non prendere nessuno di noi. Ma se ci hanno seguito usando altri corpi per attaccarci, a livello tecnico non hanno infranto il giuramento. «Fantastico», borbottò Leo. «Questi Eidolon sono anche laureati in giurisprudenza. Adesso vorrei davvero ucciderli». «Dimenticati di loro per il momento», disse Hazel. «Questa porta mi sta facendo impazzire. Puoi provare tu?» Leo si scrocchiò le nocche. «Fate largo al maestro, per favore». La porta era interessante e molto più complessa della combinazione con i numeri romani. Era interamente rivestita di oro imperiale. Una sfera meccanica grande quasi come una palla da bowling era incastonata al centro. La sfera era costituita da cinque anelli concentrici, su ciascuno dei quali erano iscritti simboli dello zodiaco, il toro, lo scorpione e via dicendo, oltre a numeri e lettere dall'apparenza casuali. «Sono lettere greche», notò Leo stupito. «Beh, tanti romani parlavano greco», commentò Hazel. «Sì, ma questa abilità tecnica, senza offesa per voi del campo Giove, è troppo complessa per essere romana». Frank sbruffò. «Certo, a voi greci piace molto complicare le cose». «Ehi, sto solo dicendo che questo meccanismo è molto sofisticato». Mi ricorda…» Leo fissò la sfera, tentando di ricordarsi dove avesse letto o sentito parlare di un meccanismo antico come quello. «È un tipo di serratura più avanzata. Bisogna allineare nel giusto ordine i simboli sui vari anelli e la porta si apre». «Ma qual è l'ordine giusto?» domandò Hazel. «Buona domanda. Le sfere greche? Astronomia, geometria?» Leo provò una sensazione di calore interno. «Oh, non può essere. Qual è il valore di P?» Frank corrugò la fronte. «Di che P parli?» «Intende il P greco», intervenne Hazel. «L'ho studiato nelle lezioni di geometria, ma si usa per misurare la circonferenza», spiegò Leo. «Questa sfera si è stata costruita da chi penso io». Hazel e Frank lo guardarono con aria assente. «Non importa», riprese Leo. «Sono praticamente sicuro che il P greco è… 3,1415 eccetera eccetera. Il numero continua all'infinito, ma la sfera ha solo cinque anelli, per cui queste cifre dovrebbero bastare. Sempre che io abbia ragione». «E se non ce l'hai?» domandò Frank. «Beh, allora Leo crolla e tanti saluti. Scopriamolo». Girò gli anelli, partendo dall'esterno e spostandosi verso l'interno. Ignorò i segni dello zodiaco e le lettere, allineando i numeri per formare il valore del P greco. Non accadde niente. «Che stupido!» bofonchiò Leo. «P greco si espande verso l'esterno perché è infinito». Rovesciò l'ordine dei numeri, cominciando dal centro e andando verso il bordo. Quando allineò l'ultimo anello, qualcosa dentro la sfera fece clic. La porta si spalancò. Il figlio di Efesto sorrise raggiante agli amici. «Questo, signore e signori, è il modo in cui facciamo le cose nel mondo di Leo. Entrate, prego!» «Odio il mondo di Leo», borbottò Frank. Hazel rise. All'interno c'era abbastanza roba da tenere occupato Leo per anni. La stanza aveva più o meno le dimensioni della fucina al campo mezzosangue. Tavoli da lavoro rivestiti di bronzo lungo le pareti e cesti pieni di antichi strumenti per la lavorazione del metallo. Dozzine di sfere di bronzo e oro, simili a palle da basket in stile steampunk, erano sparse in giro in varie fasi di smontaggio. Ingranaggi sfusi e cavi erano sparpagliati a terra. Grossi cavi di metallo collegavano ogni tavolo al fondo della stanza, dove c'era una zona chiusa, simile alla cabina di registrazione di un teatro. Due rampe di gradini conducevano alla cabina su entrambi lati. Tutti i cavi sembravano convergere lì. Accanto alle scale, sulla sinistra, c'era una fila di scomparti pieni di cilindri di cuoio, probabilmente antiche custodie di rotoli di pergamena. Leo stava per dirigersi verso i tavoli, quando lanciò un'occhiata a sinistra e per poco non fece un salto dallo spavento. Affiancati alla porta, c'erano due manichini con la corazza, tipo spaventapasseri scheletrici fatti di tubi di bronzo con indosso l'armatura romana completa, con tanto di scudo e spada. «Oh cavoli!» Leo si avvicinò a uno di loro. «Sarebbero strepitosi se funzionassero!» Frank si scansò dei manichini. «Quei cosi si animeranno e ci attaccheranno, no?» Leo ridacchiò. «Neanche per idea! Vi mancano dei pezzi!» Diede un colpetto sul collo del manichino più vicino, dove cavi di bronzo spuntavano da sotto il pettorale. I cavi della testa sono stati disconnessi e qui, al gomito, il sistema di carrucole per la giuntura è fuori allenamento. Secondo me i romani hanno tentato di replicare un progetto greco, ma non ne avevano le competenze. Eisel inarcò le sopracciglia. «I romani non erano abbastanza bravi per essere complicati, suppongo. O sofisticati!» aggiunse Frank. «E io ho solo detto come la penso!» Leo scosse la testa del manichino, facendolo annuire come se fosse d'accordo con lui. «Eppure è un tentativo piuttosto impressionante. Ho sentito delle leggende sui romani, che avevano confiscato gli scritti di Archimede, ma... Archimede?» Eisel era sconcertata. «L'antico matematico!» Leo rise. Era molto di più. Era il più famoso figlio di Efesto mai esistito. Frank si grattò un orecchio. «L'ho sentito nominare, ma come fai a essere sicuro che il manichino sia un suo progetto?» «Non può essere altrimenti!» esclamò Leo. «Sentite, ho letto tutto su Archimede. Era un eroe della Casa Nove. Viveva a Siracusa, una delle colonie greche dell'Italia meridionale, molto tempo prima che Roma diventasse enorme e prendesse il sopravvento. Alla fine i romani hanno attaccato e distrutto la città in cui lui abitava. Il generale romano voleva risparmiarlo perché era un uomo molto prezioso, una specie di Einstein del mondo antico. Ma uno stupido soldato romano lo uccise. «Ci risiamo», bofonchiò Hazel. «La parola stupido e la parola romano non devono per forza andare insieme, Leo.» Frank grugnì per sottolineare che era d'accordo con lei. «Come fai a sapere tutte queste cose? C'è una guida turistica spagnola nei paraggi?» «No, amico. Non puoi essere un semidio che si occupa di costruzioni e non conoscere Archimede», replicò Leo. «Era uno di prima classe. Ha calcolato il valore del pi greco. Ha fatto un sacco di scoperte matematiche che utilizziamo ancora oggi per l'ingegneria. Ha inventato la vite idraulica per spostare l'acqua nelle tubature.» «La vite idraulica?» Hazel aggrottò la fronte. «Scusami tanto se non so cosa sia questa straordinaria invenzione. Ha anche costruito gli specchi ustori che da grande distanza potevano incendiare le navi nemiche.» Aggiunse Leo. «E' abbastanza straordinario per te?» «Ho visto un programma in televisione», disse Frank. «Hanno dimostrato che non funzionavano. È solo perché i mortali di oggi non sanno come usare il bronzo celeste», spiegò Leo. «È questa la chiave. Archimede ha inventato anche un enorme artiglio che uscilla su una gru per tirare fuori dall'acqua le navi nemiche.» «Ok, questa è una figata», ammise Frank. «Mi piacciono i giochi con i bracci meccanici.» «Finalmente.» Leo sorrise. «In ogni caso, tutte le sue invenzioni non sono bastate. I romani hanno distrutto Siracusa. Archimede è stato ucciso.» «Stando alle varie leggende, il generale romano era un fan delle sue creazioni, per cui ha fatto razzia nel laboratorio di Archimede e ha portato un mucchio di ricordi a Roma.» «Sono scomparsi dagli annali della storia, se non che...» Leo agitò le mani verso la roba sui tavoli. «Eccoli qua!» «Palloni da basket metallici?» chiese Hazel. Leo non riusciva a credere che i compagni non apprezzassero gli oggetti che avevano davanti agli occhi, ma tentò di contenere la propria irritazione. «Ragazzi, Archimede costruiva sfere. I romani non riuscivano a capirle. Credevano che servissero solo a indicare il tempo o a seguire le costellazioni, perché erano ricoperte da immagini di stelle e pianeti. Ma è come trovare un fucile e pensare che sia un bastone da passeggio.» «Leo, i romani erano ingegneri straordinari», gli ricordò Hazel. «Hanno costruito acquedotti, strade, armi da assedio», aggiunse Frank. «Ognature pubbliche.» «Sì, certo», ammise Leo. «Ma Archimede faceva parte di una categoria a sé. Le sue sfere potevano fare qualunque cosa, solo che nessuno sa di preciso.» All'improvviso ebbe un'idea così incredibile che gli prese fuoco il naso. Si affrettò a spegnerlo con la mano. Cavoli, era davvero imbarazzante quando gli capitava. Si precipitò verso la fila di scomparti e osservò le diciture sulle custodie dei rotoli di pergamena. «Oh, santi numi! Eccolo!» Con cautela sollevò uno dei rotoli. Non se la cavava benissimo con il greco antico, ma intuì che l'iscrizione sulla custodia diceva «sulla costruzione delle sfere.» «Ragazzi, è il libro perduto!» Gli tremavano le mani. Archimede lo scrisse per descrivere i suoi metodi di costruzione, ma tutte le copie erano andate smarrite nell'antichità. «Se riesco a tradurlo!» Le possibilità erano infinite. Per Leo, l'impresa aveva assunto una dimensione totalmente nuova. Doveva riuscire a portare le sfere e le pergamene sane e salve fuori da lì. Doveva proteggere quel materiale finché non fosse riuscito a portarlo al bunker 9 per studiarlo. «I segreti di Archimede!» sussurrò. «Ragazzi, questa roba è perfino più importante del computer di Dedalo! Se i romani attaccheranno il campo mezzosangue, questi segreti potrebbero salvarlo. Potrebbero perfino darci un vantaggio su Gea e i giganti!» Hazel e Frank si scambiarono un'occhiata scettica. «Ok», disse Hazel. «Non siamo venuti qui per un rotolo di pergamena, ma immagino che possiamo portarcelo dietro.» «Ammesso che non ti dispiace condividerne i segreti con due semidei romani stupidi e sempliciotti come noi», aggiunse Frank. «Che cosa?» Leo lo fissò con aria assente. «No, sentite, non avevo intenzione di offendere. Da, lasciamo stare. Il punto è che è una buona notizia.» Per la prima volta da giorni, il figlio di Efesto si sentiva davvero fiducioso. Ovviamente fu in quel momento che andò tutto a rotoli. Sul tavolo accanto a Hazel e Frank una delle sfere cominciò a ronzare. Una fila di gambe affusolate si protese dall'equatore. La palla si fermò e due cavi di bronzo schizzarono fuori dall'alto, colpendo Hazel e Frank come i proiettili di una pistola elettrica. I ragazzi si accasciarono a terra senza sensi. Leo si precipitò ad aiutarli, ma i due manichini con l'armatura, quelli che non avrebbero dovuto assolutamente muoversi, si mossero eccome. Sguainarono le spade e si diressero verso il ragazzo. Quello sulla sinistra raddrizzò l'elmo, che aveva la forma di una testa di lupo. Sebbene il manichino non avesse né faccia né bocca, una voce cupa e familiare parlò da dietro la visiera. «Non puoi sfuggirci, Leo Valdes. Non ci piace possedere dei macchinari, ma sono meglio dei turisti. Non uscirai vivo da qui».